Buon pomeriggio, benvenuti alla terza edizione di Un Caffè con le Startup, l'evento dedicato a conoscere le start-up dell'Urban Center. Oggi con noi Daniele Gulic di Sky Proxima e Margherita De Angelis di Nanodent. Daniele, grazie per essere qua con noi e ti lascio la parola per presentare Sky Proxima. Benissimo, grazie per questa occasione e questa opportunità di presentazione di Sky Proxima e approfitto ovviamente di questa opportunità per dare già un'indicazione di chi siamo, cosa facciamo e dove vogliamo arrivare con una brevissima slide, ma molto incisiva. Mi alzo che così ho modo di illustrare. Sky Proxima è nata alla fine del 2019 da esperienze pregresse dei soci fondatori nell'ambito delle tecnologie satellitari e aerospaziali. Oggi sappiamo che la nuova mobilità si sta spostando verso il cielo e di conseguenza ovviamente parliamo dell'Advanced Air Mobility, cioè la mobilità avanzata aerea. Noi ci occupiamo proprio di questo, ma non nel termine specifico della costruzione dei velivoli, ma della costruzione e della progettazione di tutto l'ecosistema. Cosa vuol dire l'ecosistema dell'Advanced Air Mobility? Vuol dire aeroporti, vuol dire modelli logistici, vuol dire protocolli di volo, vuol dire corridoi aerei nuovi per questo tipo di attività e ovviamente i velivoli che devono essere costruiti e adattati sulla base delle esigenze specifiche che vengono richieste dai clienti. Noi in questo momento ci stiamo specializzando nell'attività di service per quanto riguarda il trasporto sanitario. Attualmente in Europa non c'è ancora un protocollo operativo in questo senso. Noi lo stiamo costruendo, anzi l'abbiamo già costruito, e lo stiamo proponendo sul mercato come service per mettere in collegamento ospedali, laboratori e tutte quelle attività che gravitano attorno alla sanità e al mondo medicale. In questo contesto abbiamo sviluppato degli accordi molto strategici, tra i quali ne cito uno, forse il principale, che è ovviamente con la società britannica UAP, in quanto è la prima società che ha presentato al mondo un vertiporto, cioè un aeroporto dedicato ai droni. Questo ci permette ovviamente di strutturare l'infrastruttura dell'Advanced Air Mobility Healthcare e di conseguenza essere i primi a proporci sul mercato con un'infrastruttura unica a tutti i livelli. Quindi io direi che in queste due parole ho semplicemente dato un'indicazione di cosa siamo e cosa vogliamo fare. Oggi ci stiamo preparando per la creazione della prima infrastruttura dimostrativa all'interno dell'aeroporto di Gorizia e stiamo aspettando dalla regione Friuli-Mezza Giulia la firma dell'accordo quadro con ENAC per poter poi sviluppare ampiamente queste attività in modo tale da arrivare a definire un'operazione e un service dedicato. Infatti ENAC, che è l'ente nazionale della regione civile, non ci chiede più sperimentazione, ci chiede di attivare dei servizi operativi. Noi siamo appunto pronti per gestire questo tipo di operatività. Grazie per l'attenzione. Grazie mille Daniele. Davvero un progetto molto interessante. Io volevo un attimino cominciare questa chiacchierata fra di noi chiedendoti non tanto come è nata la tua Sky Prossima, in quanto ce l'hai già accennato, è nata dall'esperienza pregressa dei soci fondatori, ma è stato? Qual è stata la genesi? È stata una sorta di illuminazione che ti ha portato a fondare la start-up e capire che è la start-up il veicolo giusto per concretizzare il tuo progetto. O è stato attraverso un percorso un po' più lungo che ha portato a capire che ci poteva essere lo spazio per costituire una start-up? Sì, è stato un percorso a tutti gli effetti. Nel senso che personalmente arrivo dal mondo accademico scientifico nel quale ho contribuito lavorando in un contesto appunto aerospaziale e satellitare. C'è sempre stata una necessità di creare qualcosa di proprio, di portare avanti un'idea, di sviluppare una soluzione o più soluzioni che potessero dare un contributo a livello professionale, non solo a me, ma a tutti quelli che mi circondano, scompresi ovviamente i soci. Non è stato un percorso facile, è stato un percorso ovviamente abbastanza articolato, ci sono stati anche delle prove diciamole di attività e poi ci abbiamo rinunciato perché i tempi non erano adatti a gestire questo tipo di operazione. Finalmente nel 2019 abbiamo visto che tutto l'ecosistema tecnologico stava voltando verso la direzione che pensavamo si potesse sviluppare, che era questo appunto dell'Advanced Mobility. Di conseguenza abbiamo deciso di finalmente di avviare, di attivare e a distanza adesso di quasi due anni stiamo raccogliendo ovviamente i frutti, ma ci stiamo consolidando per divenire in effetti una delle prime realtà a livello regionale, nonché anche nazionale, a gestire questo tipo di service. Grazie, mi hai anticipato sulla prossima domanda. Quindi è stato un percorso dove però ci sono stati anche degli ostacoli. Quindi gli ostacoli in particolare, in modo da anche esemplificare e raccontare anche a un futuro start-up, cosa puoi incontrare? Nel vostro caso quali sono i principali ostacoli che avete incontrato? Stia prima nell'evoluzione di arrivare all'idea, quindi a dire sì, c'è un bisogno, sì, posso trovare la soluzione a questo bisogno e quindi fondo una start-up, perché la start-up, l'azienda è il risultato di comunque un processo evolutivo in cui uno ha un'idea e per arrivare a concretizzare qualcosa di reale, cioè vado dal notaio firmo e creo un qualcosa di reale, c'è comunque un percorso che può presentare anche degli ostacoli. Quali sono i principali che avete incontrato? Allora, premetto che l'ecosistema start-up italiano ha delle difficoltà. Negli ultimi due anni forse c'è stato, come dire, uno sviluppo un po' più forte che ha permesso ovviamente di ragionare in termini di creazione di una reale start-up in maniera un po' più semplificata. Noi veniamo dalle esperienze tentativi, operativi, che partivano dal 2016-2017. Di conseguenza ci siamo trovati in un mare abbastanza in tempesta. Ma in che senso? Nel senso che investitori difficilmente raggiungibili, strutture che fossero capaci di supportarci a livello documentale, a livello operativo, a livello anche legale, adatte per poter gestire una piccolissima realtà che potevamo essere, e costi ovviamente iniziali che erano sproporzionati, ma lo sono ancora, sulla base ovviamente di quanto uno vuole creare da zero. La cosa che poi, a mio avviso, ci ha fatto un attimino anche, anzi, ci ha incoraggiato ovviamente a strutturare tutto nel 2019, è stato soprattutto i contatti internazionali che nel tempo abbiamo sviluppato e che ci hanno dato, come dire, un incoraggiamento a gestire l'avvio di una start-up sapendo di andare a colpire e penetrare mercati extranazionali, europei e internazionali. Perché non sono io sicuramente a dirlo, ma il mondo delle start-up a livello internazionale ha un altro feeling. Quindi l'ostacolo che può essere anche il discorso della territorialità, cioè chiudersi nel proprio guscio all'interno del proprio territorio, in realtà può essere superato espandendo i propri confini, quindi interagendo anche con realtà che magari non sono necessariamente il nostro mercato primo da cui però possiamo prendere spunto e che ci agevola nello sviluppo sul nostro territorio. E quindi, passando da cose negative che possono essere solo gli ostacoli, la cosa più inaspettata, non l'effetto necessariamente wow, ma quello che non ti saresti aspettato di incontrare nel tuo percorso di start-up, in particolare di Sky Proxima. Allora, la cosa sicuramente inaspettata e anche di cui andiamo veramente orgogliosi è stato successo nel 2021 quando abbiamo presentato un progetto per lo sviluppo di un velivolo lunare ed era il nostro primo tentativo ovviamente di approccio all'Agenzia Spaziale Europea e grazie allo staff e ovviamente ai soci che arrivano proprio dal mondo aerospaziale riusciti a costruire un progetto forte da un certo punto di vista che è stato accolto. È stato accolto, è stato premiato per la sua originalità e poi non ha avuto seguito perché siamo stati scavalcati da una piccola azienda come Talessa Aerospace che purtroppo ha una nomea non indifferente. Ma la soddisfazione di essere all'interno di quel circuito, in quel contesto, in mezzo a dei colossi, ovviamente presentando un'idea progettuale che è piaciuta, ci ha fatto veramente molto piacere, ci ha incoraggiato a percorrere questa strada in maniera ancora più forte. Approfitto perché in realtà l'hai citato più volte. Chi è il team di Skyproxima? Il team è cresciuto dal primo anno di fondazione già dal secondo anno perché il nostro primo obiettivo è stato quello proprio di attirare nel board e quindi nel team di Skyproxima delle persone che avessero delle competenze e delle specifiche abilità per permetterci di veramente arrivare al suo mercato in maniera completa. Abbiamo un ingegnere aerospaziale che è un docente del Politecnico di Torino, del Politecnico di Milano e che si occupa di propulsione spaziale, ha scritto anche dei libri e di conseguenza credo che abbiamo una delle persone più rappresentative anche di questo mondo. Abbiamo un ingegnere aeronautico che ha lavorato per tantissimi anni anche per Leonardo e di conseguenza ha delle competenze specifiche ben conclamate nel tempo e poi abbiamo anche un gruppo societario IT che è tra i più forti a livello nazionale perché conta più o meno 600-800 dipendenti e che ci supporta per tutto quel che riguarda l'integrazione tecnologica. In più abbiamo delle persone che sono dei piloti reali e che ci supportano per tutta la fase di test e che dire, uno dei soci fondatori che è il Mar del Curdi avviene dal mondo medio orientale che ci permette ovviamente di esplorare quel territorio dal punto di vista commerciale in maniera molto più presente. Grazie Daniele. Io ti avrei voluto chiedere qual è stata la tua più grande soddisfazione ma mi pare di aver capito che a ottenere quel riconoscimento all'interno di quella progettualità è stato questo probabilmente il punto chiave che anche ha dato la svolta al proseguo dell'attività di Sky Prossima. Quindi ti faccio un'altra domanda Da quando è stata costituita Sky Prossima fino ad oggi? Qual è la parola chiave di questo percorso? Per esempio alcuni hanno pensato allo studio per arrivare dove sono arrivato oggi ho dovuto studiare ho dovuto guardare i mercati e ho dovuto approfondire altri hanno identificato il saper ascoltare i consigli anche di competitor che potenzialmente avrebbero potuto anche non aiutarti ma in quel caso hanno dato hanno speso delle parole positive. Nel caso di Sky Prossima qual è la parola chiave che senti di attribuire alla tua startup? Ritorno alla risposta che ho dato prima il team il team è la forza di questa startup in quanto viviamo in un contesto tecnologico ovviamente evoluto di conseguenza non posso dire che non posso mai dire che siamo i primi a fare questo i primi a fare quest'altro siamo i primi a presentarci no, non è vero sarei molto presuntuoso la nostra forza è proprio le persone che costituiscono la Sky Prossima le persone che con il loro contributo possono veramente farci superare ostacoli farci metterci in evidenza rispetto anche ai grandi competitor e soprattutto la collaborazione continua tra queste persone ci stimola a non mollare andare avanti perché non nascondo che ci sono stati dei momenti di scoraggiamento momenti in cui momenti che abbiamo affrontato in cui ci siamo trovati a lottare contro investitori che volevano semplicemente assorbirci senza lasciarci niente nel nostro paniere quindi direi che la forza del gruppo è assolutamente la nostra forza grazie e sottolineo che il team emerge come il primo elemento chiave di successo di una startup da queste interviste che stiamo facendo quindi probabilmente il fattore comune di tutte le startup a prescindere dall'idea nessuno cita l'idea tutti citano il team perché l'idea è effimera nel senso può essere assolutamente teorica bellissima ma se non la concretizzi lo puoi fare solo attraverso il team rimane solamente un'idea al Daniele del 2019 ma forse anche quello del 2016 o anche prima che consigli daresti all'inizio della sua attività imprenditoriale ovvero in realtà anche a quello dell'epoca ma ad oggi a uno che volesse intraprendere un percorso come il tuo in un settore di nicchia perché entrare nel settore aerospace comunque aerospaziale aeronautico non è molto semplice ci sono richieste delle competenze molto specifiche che consigli daresti? Il consiglio che darei è di ripercorrere quanto fatto ma iniziare da subito in un contesto internazionale perché da lì abbiamo capito tantissime cose dal punto di vista di sviluppo imprenditoriale dal punto di vista anche di contatto con gli investitori e soprattutto abbiamo verificato che nel tempo gli investitori italiani sono molto più difficili da gestire dal punto di vista di input economico a differenza di investitori che sono diciamo economicamente forti e che provengono comunque da un contesto o americano o extraeuropeo quindi se dovesse iniziare nuovamente tutto da capo inizierei magari anche con un periodo di attività in un paese extra nazionale quindi internazionalizzazione sin da subito quindi perché spesso si vede che in realtà le start up a seconda della tipologia ovviamente hanno tempistiche di sviluppo molto diverse IT molto veloce pharma richiede tantissimo tempo però l'internazionalizzazione è intesa come confronto con l'esterno quindi interazione e confronto con l'esterno è un suggerimento che tieni a dare proprio questo il confronto il confronto è una qualcosa di indispensabile proprio con l'internazionalità perché ci sono abbiamo fatto proprio dei ragionamenti e delle chiamiamole tabelle di confronto operative abbiamo notato tantissime differenze che probabilmente ci avrebbero fatto perdere meno tempo molto interessante questo soprattutto la perdita di tempo perché per la start up probabilmente il tempo è più cruciale rispetto ai soldi sono allineati ma il tempo è quello che aiuta a raggiungere di più l'obiettivo rispetto ai soldi perché permettere di risparmiare tempo e denaro con delle tabelle dei confronti quindi su carta non devo andare non devo andare in aeroporto non devo sviluppare ma mi permette di superare degli ostacoli senza l'investimento di grosse risorse posso magari aggiungere su questo aspetto un suggerimento che do ovviamente anche agli incubatori che sono presenti qui in Italia è proprio di stimolare questo confronto perché a mio avviso è assolutamente necessario in quanto ci si rende conto di quale sia un mercato in sviluppo di quali siano le difficoltà e soprattutto di qual è l'input numerico economico a disposizione al di fuori dei confini nazionali questo anche sia come Urban Center ma anche come Bio4Dreams vogliamo che le start-up si incontrino condividiamo le informazioni perché il prodotto di uno può diventare il fornitore e cliente il rapporto collaborazioni progetti quindi assolutamente piccole realtà che devono appunto sopravvivere con costi alti perché sappiamo che i costi di gestione purtroppo non sono sono difficilmente confrontabili con la realtà delle start-up ma facendo squadra può diventare vincente io avevo un'ultima spero di no però un'ultima domanda ho una curiosità che ti volevo chiedere nel breve cioè da qua a un anno a un anno e mezzo senza pensare o meglio nel breve magari anche nel lungo termine se avessi a disposizione un genio una lampada e un genio che ti desse la possibilità di chiedergli tre cose tre desideri magari uno nel breve uno nel medio e uno nel lungo termine cosa chiederesti scusa se ti faccio questa domanda che magari è un po' complessa ma proprio per capire chi sei cosa vuoi oggi dopo domani magari fra un mese fantastico questa è la domanda che tutti vorrebbero ricevere ma soprattutto che vorrebbero vedere la lampada direttamente lì da strofinare assolutamente allora la prima è forse un problema ovviamente abbastanza ricorrente la sburocratizzazione un po' di tutti i processi operativi per quanto riguarda le normative che poi sottengono anche lo sviluppo di questo nostro settore e noi come ho già detto prima siamo pronti a mettere a terra un impianto completo ovviamente ci sono le normative che si devono evolvere non nascondo che in questi ultimi due mesi c'è Enac che ci fa pressione per iniziare a sviluppare un servizio operativo quindi vuol dire che qualcosa sta funzionando e che la lampada ha già funzionato in parte quindi questo è uno dei primi desideri velocizzare tutto per andare sul mercato nell'immediato il secondo desiderio io voglio andare sulla luna io personalmente quindi il secondo desiderio è quello di accelerare lo sviluppo progettuale del velivolo che abbiamo pensato per portarci a fare un giretto diciamo il terzo riguarda sempre lo spazio perché la luna è vicina e di conseguenza Marte è l'obiettivo prossimo e poi ovviamente mi piacerebbe vedere i velivoli Sky Proxima orbitanti attorno alla Terra che prestano servizio per tutta la parte di supporto ai satelliti che sono sempre più operativi allora ti ringrazio e ti auguro il raggiungimento di questi tuoi sogni ti ringrazio per essere qua di nuovo per la l'onestà la semplicità e la simpatia con cui hai risposto che non sono tipici e per questo ti ringrazio nuovamente noi ci prendiamo due minuti di pausa in quanto adesso abbiamo il secondo ospite Margherita De Angelis che è la fondatrice di Nanodent grazie a voi bentornati in questa seconda parte di questo terzo evento un caffè con le start-up qua con noi Margherita De Angelis founder di Nanodent con me la general manager dell'urban center dell'ingegner Barbara Coden io sono Marco Dalferro che lavoro come start-up manager in urban center Margherita lascio a te la parola ci racconti brevemente Nanodent chi siete cosa fate magari dove volete andare sì innanzitutto ciao e grazie Nanodent è una start-up innovativa che si occupa di bio stampa quindi l'obiettivo di Nanodent è creare mini organi con cellule staminali e stampanti 3D per materiale biologico alcune condizioni che possono essere divise diciamo in settori avranno un un percorso clinico e di sviluppo poi sull'umano altre condizioni verranno create per quello che è la ricerca quindi test in farmaceutico ricerca e quant'altro grazie mille chi siete cioè tu sei la fondatrice lavori sola hai qual è il tuo team perché abbiamo abbiamo parlando con le start-up in questi eventi ci siamo abbiamo recepito che il team generalmente è importante per la crescita e lo sviluppo del progetto tu sei sola hai dei collaboratori con chi lavori e chi ti ha aiutato magari durante questo processo di fondazione della start-up allora io ho iniziato da sola quindi per un periodo comunque sono stata appunto da sola nello sviluppo delle idee nella scrittura dell'idea nell'aprire inizialmente la prima società con un SRL semplificata la prima volta che mi sono presentata la comunità europea ero da sola quindi alcuni mesi li ho fatti da sola ma se erano i mesi iniziali necessari per strutturare un po' la condizione poi ovviamente ho iniziato comunque a cercare dei collaboratori cosa fondamentale avere un team professionale determina la vittoria o la sconfitta ma è una cosa altrettanto difficile da cercare perché purtroppo le persone che sono adatte per te non si trovano subito dietro l'angolo bisogna fare esperienze io posso dire che sono stata fortunata io non sono assolutamente da sola ma ho un team manageriale forte ho un team scientifico forte e ho delle proiezioni importanti a livello commerciale quindi non sono da sola sono rimasta da sola solo proprio all'inizio in periodo necessario ma mi sono messa subito a cercare e costantemente ricerco persone o se individuo persone anche se al momento non servono ma le tengo care è bello come questa costante del team emerga sempre come fattore comune del successo di ogni start up bene tu hai cominciato a fai hai un'attività che è molto verticale molto scientifica come è nata il progetto come è nato il progetto Nanodent è stata un'illuminazione cioè quasi un battito di ciglia che ti fa capire che posso fare questo o deriva da un processo di studio magari da un'analisi del mercato o dal cercare di mettere a frutto delle competenze maturate l'idea è nata inizialmente da un'intuizione poi comunque c'è una distinzione netta tra le idee e le cose che effettivamente sono concrete quindi immediatamente dopo l'intuizione ho cercato di comprendere se questa intuizione era fattibile o meno a che punto era fattibile quanto e qual era il miglior modo e come la dovevo plasmare per poterla poi concretizzare l'insieme di tutta una serie di piccole cose di piccoli elementi diversi che hanno portato a capire che potevi avere una possibilità come strutturare il progetto e a deciderti di andare dal notaio a fondare Nanodent quindi è interessante questa risposta io guardo ogni condizione ogni situazione ogni persona ogni evento ogni giornata la percepisco come un cerchio un cerchio a 360 gradi se ne hai 359 comunque non è un cerchio quindi volendo rimanere nel focus e l'obiettivo per me è sempre un cerchio bisogna tenere in considerazione tutti i 360 gradi bellissima immagine e anche di affrontare la giornata come un cerchio di 360 gradi è una bellissima immagine intanto quando è nata Nanodent? Nanodent è nata sotto il covid è tutto chiuso ma Nanodent è stata aperta sì e l'intuizione invece quando è venuta? l'intuizione è avvenuta 4-5 mesi prima è stato tutto molto molto veloce sì ho avuto questa intuizione poi ho cercato sono andata essendo oltretutto a livello scientifico quindi dopo l'intuizione c'è che cosa posso fare quindi la normativa quindi sono andata a vedere sia la parte scientifica come era realizzabile se era realizzabile e anche la parte normativa quindi di quello che potevo fare di scientifico che era realizzabile a livello scientifico che cosa dovevo togliere per poter farlo a livello normativo e un attimo che ho sistemato queste cose ho scritto il progetto dopo 4-5 mesi presentavo il progetto alla comunità europea e dovevo presentarmi non come persona fisica ma come persona giuridica e allora a maggio ho aperto la start up maggio 2020 hai già anticipato qualcosa gli ostacoli che hai incontrato ad esempio questo dovevi presentarti alla comunità europea persona fisica non viene riconosciuta e quindi una start up magari semplificata un SRL magari semplificata ma permette e quindi superamento di un ostacolo quali altri ostacoli i principali hai incontrato lungo questo percorso gli ostacoli è pieno giornalmente minuto dopo minuto ma fanno parte del gioco cioè io li prendo come percorso non come ostacoli penso che molto sia anche come la persona vive le condizioni io non non li prendo come ostacoli quindi alla fine della giornata non sono logorata da quello che mi è successo durante il giorno sono pronta mi rilasso perché il giorno dopo devo essere pronta di nuovo per superarne altri pensare che non ci siano ostacoli penso che non sia realistico assolutamente questo anche arrivi stanca a fine giornata magari sì mentalmente fisicamente ma non per la negatività degli ostacoli ma per le attività che hai fatto quindi diventano attività non ostacoli anche questo un bel approccio perché tante volte ora sì gli ostacoli esistono cioè in qualsiasi appunto in qualsiasi giornata più o meno grandi e in qualsiasi vita è impossibile una vita senza senza ostacoli anche perché probabilmente non sarebbe una vita vissuta esatto nel senso quindi questa cosa di affrontare come attività permette soprattutto magari nelle fasi iniziali in cui sei stata da sola e quindi non c'hai un team a fianco non alle spalle un team a fianco che nei momenti di alto e basso magari uno in alto e tira su quello che magari la giornata è andata che l'esperimento non è venuto capita capita assolutamente ma ti permette magari quel no ti permette di trovare un'altra soluzione che può essere molto più funzionale di quello che uno aveva pensato inizialmente quindi questo approccio di attività invece di ostacoli può essere funzionale anche a un'altra startup di dire ok la supererò la faccio non devo buttarmi giù perché è un'attività da fare non un muro invalicabile questo oltre appunto a questo punto attività che hai avuto tra queste che hai affrontato qual è stata la più inaspettata quella che non ti saresti appunto aspettata di incontrare lungo questo percorso parli di un ostacolo che è stato superato o anche una cosa bella che succede io rimango meravigliata giornalmente mi succedono delle cose veramente meravigliose affascinanti anche solo non lo so determinate condizioni o enti o situazioni che vengono a cercarti che chiedono che magari ci sono anche a dei livelli importanti che magari non avresti mai pensato oppure quando sei ne senti solo parlare che ti cercano e sono interessati a te vogliono costruire collaborazioni con te perché comunque c'è questo progetto dietro che sta nascendo altro quello penso che sia la magia più grande oltre al fatto la meraviglia più grande ovviamente ce l'ho nel lavoro stesso quindi lavorando con le cellule io lavoro con la vita e allora sai con qualcuno parlando scherzando io lavoro con Dio perché vedo delle cose veramente meravigliose e lì è tutto poi tutto il resto passa in secondo piano ovviamente spendo veramente tre secondi sulla mia esperienza ingegnere quindi abituata a lavorare con le cose inanimate ho lavorato in campo della bioingegneria e veder la cellula che batte sotto il microscopio è stata una delle esperienze più inaspettate ma più forti che abbia vissuto quindi capisco cosa intendi vederle e lavorarci ogni giorno tanto grazie quindi anch'io volevo chiederti qual è la tua più grande soddisfazione ma capisco che ne hai giornalmente delle grandi soddisfazioni questa è una bellissima cosa non è una bellissima cosa quello che hai detto che gli ostacoli li vedi come opportunità di crescita e sarebbe una cosa davvero da condividere a chi un domani vuole iniziare un progetto imprenditoriale inconsapevole degli ostacoli che può trovare ostacoli che tendenzialmente molto spesso tendono a segare letteralmente le gambe ma se si riesce a trasformare l'ostacolo in un'opportunità è una grande fonte di crescita quindi è una cosa molto molto notevole quella che hai detto e ti volevo chiedere Nanodenta è giovane fondamentalmente l'hai costituita poco più di due anni fa se dovessi definire con una sola parola il tuo percorso dalla costituzione di Nanodenta da quando sei andata dal notario è costituito è costituito la società ad oggi una parola cosa direi? una parola è crescita perché io sto facendo un percorso personale veramente affascinante mi ritengo fortunata e ringrazio la vita di avermi dato la possibilità per quanto comunque io me la son cercata sei costruita ma lavori più o meno 50 e 50 di poter fare questa esperienza perché è veramente una è un percorso è un processo importante dove nasci poi hai l'adolescenza e poi cresci e cresci costantemente giorno per giorno con la start-up è quasi non lo so un percorso anche interiore psicologico cioè sei un'altra persona ed è meraviglioso è una grandissima ricchezza se posso permettermi di darti un suggerimento alla prossima persona che ti farà questa domanda aggiungi anche entusiasmo che è una cosa che emerge parlando con te del tuo progetto grazie assolutamente confermo quindi alla margherita chiusa in casa con tutte le pensieri del covid non sapevamo cosa stesse succedendo all'esterno e che però ha avuto questa intuizione adesso che consiglio daresti consiglio di andare avanti di andare avanti di non credere ai no non credere alla mente non credere agli altri alle parole degli altri perché comunque sono esperienze degli altri vita degli altri esperienze degli altri percorso degli altri non è il mio quindi direi di non stare a sentire quello che dice sì o no che direi di non preoccuparsi degli errori che non sono un problema non sono una vergogna semplicemente un'esperienza e quindi di andare avanti e di di agire sempre seguendo il cuore perché è veramente l'unico che sa la strada non la mente perché la mente ci inganna al cuore bello anche questo sì di andare sempre avanti nel tuo caso abbiamo sentito un po' non solo oggi ma anche gli altri giorni parlare con fornitori clienti ma anche concorrenti ha aiutato molto a far crescere la start up quindi questo che dici da un lato è non ascoltare chi ti dice no però dall'altra parte quel no può aiutarti a raddrizzare l'idea perché magari è un no concreto e reale che avrebbe portato al fallimento della start up e dell'idea quindi come lo poniamo nel senso andare avanti ma ascoltando tu hai avuto qualche supporto anche dall'esterno qualcuno che senza nulla in cambio ti ha regalato dei suggerimenti che può essere anche un no io quelle parole che ho detto adesso le direi solo a Margherita perché conosco Margherita perché so quali sono le condizioni caratteriali i limiti di Margherita un'altra persona io non saprei che cosa dire perché non so qual è la visione e la condizione di quella persona quindi so che Margherita deve dire no non stare a sentire perché nel suo percorso Margherita aveva bisogno di acquistare sicurezza in se stessa e credere in se stessa e allora magari ha ascoltato alcune volte dei no che invece anche se era forse un'esperienza che era vero che andava in no ma Margherita aveva bisogno di vivere quell'esperienza del no per fare perché non tutti i no sono catastrofici alcuni no fatta l'esperienza di quel no è illuminante per fortuna che c'è stata l'esperienza di quel no per fortuna che mi sono messa in quel no perché se no non ero magari così in questo momento quindi ecco chiudo quelle parole solo a Margherita se no dovrei conoscere un'altra persona e direi forse parole diverse ognuno ha bisogno delle proprie parole io nel mio caso sono una grandissima osservatrice quindi arrivo in un posto che prima che mi hanno detto qualcosa ho già hanno usato ho captato ho visto quindi non è che non ascolto niente o mi chiudo o altro anzi c'è magari più generico potrebbe essere perseverare nel tuo caso il perseverare è non ascoltare dei no ad altri magari perseverare è ascolto i no magari non li faccio perché non ho bisogno di fare quell'esperienza raggiungendo lo stesso obiettivo quindi raggiungo quindi perseverare nella propria idea ed è l'unico modo attraverso anche la passione che si vede che trasmetti nella descrizione del tuo lavoro anche quotidiano portare avanti appunto l'idea tu sei all'inizio adesso del tuo percorso nel senso un po' di strada l'hai fatta immagino che tanta ne devi fare immagino che tu l'abbia già pianificata ascoltando ascoltandoti in questo momento quindi immagino che tu abbia già quello che noi chiamiamo che viene chiamato nel gergo tecnico e spesso anche noi utilizziamo il piano delle attività quindi immagino che tu abbia fatto un piano dell'attività a breve termine a medio anche a lungo esattamente a medio e a lungo termine bene io ti volevo chiedere se avessi a disposizione un genio della lampada che a cui puoi chiedere tre cose e ciascuna delle quali che ti permette di velocizzare quello che farai in breve nel medio e nel lungo termine ecco cosa chiederesti allora due risposte completamente diverse partendo dal breve termine due risposte completamente diverse alla stessa domanda innanzitutto faccio un po' fatica al credere al genio sono una d'azione quindi faccio più che aspettarmi cerco ecco metto più che altro utilizzo quello che può essere il mio genio della lampada quindi il desiderio il cuore la mente il lavoro il tutto e per avere dei risultati azione uguale risultato cerco di mettere quelle azioni per avere quel risultato le calcolo un pochettino prima dall'altra parte magari posso chiedere tutto quello che sarebbe più facile però mi toglie poi tutto il fascino e allora non so se chiederei qualche cosa o la lascerei andare così forse la lascerei andare così questa è davvero una risposta è una bella risposta inaspettata risposta non comune perché generalmente eh c'è esatto ogni startup generalmente ha già vorrei che ne so centomila euro per fare questo 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 vorrei trovarmi quattro soci in più vorrei trovarmi un dipendente che mi faccia la parte uno due tre tutto ben pianificato invece mi dici no guarda voglio ogni giorno identificarlo e metterlo in atto questa è davvero una cosa inaspettata ma allo stesso tempo fa proprio eh emergere emerge la passione che ci stai mettendo e l'entusiasmo quindi grazie di questo noi non abbiamo altre domande ti ringraziamo eh soprattutto della dell'onestà anche in questo caso eh nel modo con cui ti sei aperta con noi che non è assolutamente canonico scontato quindi grazie Margherita grazie a voi e noi ci vediamo prossimamente con il quarto eh la quarta serie degli eventi un caffè con le start up buon pomeriggio a tutti